Nel solco della tradizione recente seguiamo un percorso che ogni anno decliniamo secondo quelle che sono le attualità o comunque i richiami della curiosità che poi cerchiamo di ribaltare sulle scelte e sugli orientamenti che diamo alla manifestazione. Siamo un esempio, credevamo almeno di essere un esempio di come il territorio e il talento non esclusivamente del territorio ma generalmente dedicato agli artisti della nostra provincia e della nostra regione in primo luogo ci consente di fare una operazione culturalmente molto complicata però sempre attenta alle contaminazioni, attenta come quest'anno, ma lo è stato anche negli anni recenti, alla comunicazione, alla digitalizzazione, al mondo delle tecnologie informatiche. Il programma propone una serie di allestimenti molto belli, interessanti che invitiamo tutti a visitare con artisti che abbiamo scelto anche in funzione del tema ovviamente ma molto rappresentativi. Massimo Piunti, Peppe Marcheggiani, ci sono poi fotografi, altri scultori, insomma è una bellissima manifestazione. Io credo che un rilancio del territorio inteso in larga scala come il Consorzio BIM non può che passare attraverso l'arte. Ripattoni questa mattina presenta un progetto già noto, rinnovato nella sua parte diciamo proprio della bontà dell'arte stessa e quindi il BIM c'è e ci sarà. Un'iniziativa che merita l'ode per chi l'ha organizzata, i maestri, i professori, proprio gli artisti dell'arte mettono insieme una serie di condizioni che affascineranno tutti coloro che andranno a visitare Ripattoni in arte o arte come abbiamo definito oggi. Quindi l'invito qual è? È quello di essere a Ripattoni per ascoltare, vedere, guardare questa bella mostra che veramente ne vale il momento.